Buongiorno a tutti ortisti, oggi è una bellissima giornata, fa un po' caldo ma c'è un bel venticello quindi si dovrebbe stare bene. Oggi parleremo di cetrioli e di come evitare di mangiare qualcosa di sgradevole e anche pericoloso per la salute. Ma prima siga! Eccoci qui, siamo vicino ad una pianta di cetrioli, questa è una varietà da vivaio, guardate che bel cetriolo questo oggi si raccoglie e si mangia, questa è una varietà ad alta digeribilità, molto fresca e non dà fastidio per niente, perché molti sono, non dico intolleranti, ma mangiare il cetriolo è come mangiare un peperone per alcuni sono poco digeribili, questo invece è veramente eccezionale. Allora, la pianta di cetrioli è una purbitaccia e come tale può essere soggetta a determinate situazioni in cui il sapore diventa sgradevole. Nel caso del cetriolo il sapore potrebbe essere amaro Allora, prima cosa importante, se il vostro cetriolo che state mangiando è amaro, buttate via tutto perché fa male. All'interno c'è una sostanza, la cucurbitina, credo, se ne ho ricordo male correggetemi nei commenti se ho detto una stupidaggine. E questa sostanza, se presente in grandi quantità provoca l'amaro. È una sostanza che produce la pianta per difendersi dagli insetti piuttosto che come risposta a determinati stress. Quindi è importante che il cetriolo non sia amaro altrimenti non è buono. Allora, quali sono le condizioni per il quale un cetriolo può essere amaro? Dovremo a vedere qualche altra pianta nel frattempo. La prima è la varietà. Nel caso dei cetrioli, delle piante di cetriolo comprate al vivaio, quelle sono selezioni già ottime e difficilmente producono cetrioli amari. Mentre per quanto riguarda i cetrioli autoprodotti, quelli da seme, spesso e volentieri la pianta si imbastardisce, quindi si inselvatichisce e questo tende a portare le nuove generazioni a produrre cetrioli che non sono buoni, che sono amari. Quindi la prima cosa è la genetica, quindi quando riproduce dei semi ci può essere questo problema. Il secondo problema è lo stress idrico. Il cetriolo è una pianta molto esigente per quanto riguarda l'acqua e il concino. Periodi di stress, troppa acqua oppure periodi di siccità alternate poi ad annaffiatura imbondanti possono portare la pianta ad avere degli stress che la inducono a produrre questa sostanza. Anche in questo caso per evitare che i frutti siano immangiabili è consigliabile utilizzare un'irrigazione costante e anche una concimazione periodica. Altro motivo per cui i frutti possono essere amari è dovuta al fatto che una pianta viene sottoposta a stress manuali piuttosto che ambientali di tipo potature che secondo me non vanno fatte su questa pianta. A volte può succedere che per sistemare ad esempio i rami si tende a piegarli, a romperli e quant'altro e questo può portare la pianta a reagire producendo appunto quelle sostanze quella sostanza che genera amare. Queste sono le tre principali quindi prima cosa i semi assicuratevi sempre di avere semi di una certa qualità o comunque se siete in dubbio comprateli da un vivaio piuttosto che comprate le piantine direttamente. Seconda cosa stress dovuti a cattiva gestione dell'acqua e del concime e infine un problema legato alla manutenzione della pianta stessa. Evitate potature, evitate di spostare, muovere i rami della pianta stessa e vedrete che i vostri cedroli saranno belli, freschi, croccanti e per niente amari. Ora ho visto diversi video su youtube su come utilizzare i cetrioli anche se sono amari, cioè come togliere l'amaro dai cetrioli. Devo dire che sono delle grandi boiate, uno perché se c'è il cetriolo amaro non ci puoi fare niente e lo devi solo buttare. Ho visto esempio dei video di alcuni chef con decine di migliaia di follower che consigliava ad esempio di strofinare le punte del cetriolo per far uscire una schiumetta che rappresenterebbe l'amaro. In verità l'ho provato pure a fare ma è una grande cazzata. Evitate di mangiare cetrioli che sono amari, fanno male alla salute, provano problemi gastrointestinali e niente questo è tutto, buona coltivazione e buona mangiata a tutti. Ciao ciao